salve pistoleros semi automatica o revolver voi quale preferite andremo a parlare di queste due tipologie diverse di pistole a salve e poi andremo a fare una prova di sparo e se vi va fatemi sapere nei commenti quale tipologia di pistola salve preferite prima di continuare con il video mettete un bel like per aiutarmi a divulgare questo contenuto ed iscrivetevi attivando anche la campanellina per non perdere i prossimi video chi mi segue da tanto tempo ricorderà il primo video che feci in merito a questo argomento ovvero pistola salve semi automatica o revolver già in precedenza ho fatto un video simile in cui parlavo di semi automatiche contrapposte ai revolver ma ora dato che ho tre anni di esperienza in più tre anni e mezzo di esperienza in più in merito alla differenza tra pistola salve semi automatica e revolver ho deciso di dare informazioni più dettagliate e spero anche più utili partiamo dalla semi automatica come funziona una pistola salve semi automatica in questo caso abbiamo davanti una beretta 92 a salve modello bruni 92 come la maggior parte delle semi automatiche moderne presenta un carrello otturatore che oltre ad avere la funzione di mettere il colpo in canna quando azionato manualmente anche la funzione ad ogni ciclo di sparo per la sua funzione automatica ecco perché semi automatica che praticamente spariamo il carrello con l'onda turto dei gas va indietro caccia il bossolo già sparato e in camera il colpo successivo questo meccanismo può portare inceppamenti dipende dal modello allora per quanto riguarda le armi vere gli inceppamenti non sono molto frequenti per quanto riguarda alcuni modelli di pistola salve gli inceppamenti possono essere più o meno frequenti ma per quanto riguarda le 92 parlo sia di bruni che di ghimar non ho mai avuto inceppamenti tra l'altro l'ho acquistato questi ora un po di tempo fa ho acquistato i colpi kaiser e devo dire che il ciclo di sparo già era buono prima con la bruni 92 ma con questi colpi mi trovo molto molto meglio per le semi automatiche anche importante quindi la scelta delle cartucce giuste perché ci sono pistole a salve che con una marca si inceppano e con un'altra ciclano correttamente o ci sono pistole a salve che digeriscono praticamente qualsiasi marca di bossoli a salve poi ogni pistola salve necessita sempre di manutenzione ordinaria ovvero che ad ogni sezione di sparo o se ferma da tanto tempo si deve effettuare una pulizia e lubrificazione della qui delle guide del carrello e del fusto in modo tale che i vari metalli le varie parti metalliche che scorrono che si toccano tra loro durante il ciclo di sparo abbiano una migliore scorrevolezza i vantaggi delle semi automatiche a salve per quanto riguarda l'uso in campagna l'uso pratico perché ad esempio quando vado a fare ad esempio gli asparagi o comunque vado in campagna nelle escursioni utilizzo di solito le semi automatiche perché fanno un botto più forte poi o la 92 o la 315 comunque sono molto affidabili non si inceppano la 315 ultimamente con i fiocchi può avere dei problemi di inceppamento ma molti mi dicono che utilizzando le kaiser da 8 mm ovviamente per quanto riguarda la 315 tutti questi inceppamenti non ci sono o ce ne sono di meno ma con la 92 a salve che sia bruni che sia chi mar veramente gli inceppamenti sono rarissimi molto difficili poi dipende può capitare il pezzo che non è proprio il top però ogni volta che si acquista una pistola salve io trovo sempre necessario e utile fare pulizia e lubrificazione perché le pistole a salve vengono provate prima di essere messe in vendita e quindi possono essere a volte anche sporche poi facendo un botto più forte la probabilità di mettere in fuga un eventuale animale selvatico aggressivo aumenta poi ricordiamo sempre che le pistole a salve vanno solo il botto quindi non si danneggia non si ferisce fanno semplicemente il botto un botto talmente forte che al 90 per cento dei casi l'animale selvatico non so il cane randaggio che vi vuol mordere scappa ma questa qui non ferisce in alcun modo altra cosa importante per quanto riguarda le semi automatiche e il non tenere carico il caricatore se non dovete utilizzarla perché perché praticamente tenendo la molla sempre compressa a lungo andare questa perde di vigore di conseguenza escono tanti inceppamenti perché la molla poi non dà forza a sufficienza per fare in modo che l'elevatore porti nella con la giusta energia il colpo poi fuori dal fuori dalla pistola a salve quando viene estratto quali sono quindi i vantaggi e gli svantaggi di una semi automatica salve i vantaggi certamente stanno in una maggiore capienza del caricatore rispetto a quella di un revolver se è una pistola salve buona abbiamo anche affidabilità io con le 92 ne ho quattro di 92 a salve non ho mai avuto inceppamenti mai 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 quindi le semi automatiche si inceppano non tutte ma ci sono anche alcune semi automatiche che ripeto con una scelta sbagliata di colpi a salve o semplicemente di fabbrica ogni due tre quattro colpi presentano inceppamenti un grande vantaggio secondo me delle semi automatiche a salve e il botto il botto è più forte un 8 mm da semi automatica e più forte di un 380 da revolver svantaggi come abbiamo detto prima alcune repliche o una scelta sbagliata di colpi a salve possono portare ad inceppamenti svantaggio ma non proprio uno svantaggio diciamo lavoro in più una più frequente manutenzione passiamo al revolver davanti a noi abbiamo un revolver a salve in questo caso bruni magnum che sarebbe la replica a salve della colt python la vera colt python in calibro 357 magnum qui invece abbiamo dei abbiamo il tamburo che camerato per questi colpi qua 380 r che sono praticamente 9 mm per 17 quanto un 9 porto come molti di voi già sapranno il revolver funziona rotazione in questo caso abbiamo un meccanismo in doppiazione quindi possiamo sparare sia armando prima il cane come poi vedrete nella prova di sparo sia senza il bisogno di armare il cane perché il grilletto essendo a doppia azione ha sia l'azione di armare il cane sia quello di rilasciarlo ma è un concetto ben diverso dalla ripetizione semi automatica un revolver anche se in doppia azione è a ripetizione manuale perché il ciclo di sparo lo gestiamo del tutto noi con le mani quindi o armando il cane e sparando o premendo il grilletto direttamente anche se in doppia azione perché è soltanto grazie al nostro movimento che si attiva direttamente il tamburo che gira direttamente il tamburo per portare al cospetto della canna poi il colpo successivo mentre con la semi automatica noi premiamo il grilletto poi sono i gas a fare tutto il resto quali sono i vantaggi di un revolver allora il primo non è tanto la poca probabilità di inceppamento tra un colpo e l'altro ma il fatto che se un innesco non funziona quindi se un colpo non spara e il tamburo è del tutto carico basterà poi riazionare il grilletto che sia poi davanti al percussore il colpo successivo mentre con una semi automatica salve se un innesco non va non parlo di inceppamenti ma semplicemente se un innesco non fa esplodere il bossolo dobbiamo perdere un po di tempo in più perché dobbiamo scarrellare far uscire il bossolo vecchio per incamerare quello nuovo poi come abbiamo accennato poco anzi difficilmente si incepperà un revolver attenzione non sto dicendo che si sente da malfunzionamenti ma difficilmente si inceppa perché è un meccanismo che a meno che non si rompa proprio non può smettere di funzionare la ripetizione non essendo gestita dai gas è sempre la stessa cioè non è che non è che se un colpo a meno polvere da sparo o a un malfunzionamento una mal costruzione non fa ciclare la pistola cicla lo stesso perché ci basta premere cioè non dipende dall'arretramento del carrello ma dalla rotazione del tamburo e la rotazione del tamburo la gestiamo o con il cane o con il grilletto stesso gli svantaggi di un revolver invece sono che sono ci sono meccanismi più aperti quindi durante le escursioni c'è più il rischio di intrusione di fango all'interno dei meccanismi ecco questo può essere un motivo che porta un blocco del revolver che potrebbe portare al blocco di un revolver e per sistemare poi diventa un problema perché è un po difficile in aperta campagna o durante un escursione che uno abbia tanti ferri appresso mentre con la semiautomatica se c'è un inceppamento basta la maggior parte delle volte a lavorare con le mani se inceppa un colpo si scarrella e si carica l'altro ma se c'è un problema in un revolver il problema al 99 per cento e all'interno quindi bisognerebbe smontare con le viti non solo con le mani cioè con con i ferri quindi con i giraviti non con le mani ora non ci resta che andarli a caricare per la prova di sparo carichiamo prima la semiautomatica mettiamo cinque colpi uno due tre quattro e una cinque perfetto carichiamo anche il revolver ecco qua vedete un po ecco non sono esenti da malfunzionamenti questa è molto vecchia questa pistola salve infatti ho dovuto mettere un po di forza in più per restare il tamburo comunque sei colpi uno due tre quattro cinque e una sei e ora seguitemi per la prova di sparo che dire si sono comportate benissimo entrambe per scaricare il revolver i colpi già sparati non vengono estratti in quanto i bossoli restano nel tamburo quindi apriamo il tamburo premiamo l'estrattore in questo modo ed escono praticamente tutti i bossoli ottima sia la semiautomatica che il revolver necessita di una manutenzione ordinaria anche un revolver a salve con tutto che non c'è una ripetizione semiautomatica è comunque utile fare in modo che il tamburo giri correttamente quindi periodicamente si deve andare ad oleare la base del tamburo vedete che lucida è importante perché in questo modo il grilletto anche più leggero più morbido all'interno è difficile che si asciughi la pistola salve il revolver a salve perché veramente un meccanismo che in questo caso è molto chiuso quindi è difficile che il grasso interno già di fabbrica si asciughi la prima volta che l'ho aperta aveva già tanti anni questa pistola salve e ancora c'era il grasso originale che era anche pulito non presentava residui all'interno quindi non non è necessario per quanto riguarda certo dopo più di dieci anni forse è meglio controllare se i meccanismi sono in modo adeguatamente lubrificati ma molto difficile che si asciughi all'interno però per quanto riguarda il tamburo la pulizia della camera delle camere di cartuccia è sempre importante farla periodicamente o ad ogni sessione di sparo comunque tenerla pulita non fa mai male fatemi sapere nei commenti se preferite la semi automatica salve o il revolver e se vi va fatemi anche sapere se avevate prima un'idea e se dopo questo video l'avete cambiata vi vorrei consigliare sulla piattaforma blu il gruppo numero uno in italia sulle pistole a salve chiamato appunto armi e pistole a salve se vi fa piacere seguitemi anche su insta anthony trattino basso yt trattino basso 92 se il video vi è piaciuto mettete un bel like ed iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti un caro saluto e al prossimo video ciao